Qualche momento di imbarazzo a domenica in, Piero Angela ospite nel salotto domenicale di Rai 1 si è lasciato andare ad una lunga intervista con Cristina Paordi in cui ha raccontato la sua carriera e anche qualche retroscena della sua vita privata. Lo storico conduttore di Super Quark di fatto ha anche parlato della sua passione per la A e così la parodi gli ha chiesto qualche informazione sul festival di Sanremo. A domenica in il tema del festival è il più discusso perché tra poche settimane prenderà il via l'edizione 2018 guidata da Claudio Baglioni, Michelle Unzichere e Pier Francesco Favino. La parodi ha chiesto un pronostico ad Angela con la classica domanda, secondo lei, chi vincerà Sanremo? Angela è rimasto spiazzato e di fatto ha replicato in modo chiaro, gelando così la conduttrice, non ho mai visto Sanremo, da pianista e jazzista non vedo di buon occhio il mondo della canzone. E poi, sono andato a Sanremo una dola volta con Rita Levi Montalcini per una iniziativa per raccogliere fondi contro la SLA. Alla parodi non è rimasta che la scelta di cambiare argomento e andare avanti con l'intervista.